Nel Salernitano circa 40 istituti nei prossimi due anni potrebbero restare senza un preside. Nella legge di bilancio i limiti per l'autonomia giuridica sono innalzati da 600 a 900 studenti. Anche se il ministro dell'istruzione Valditara spiega che il dimensionamento verrà nel modo più indolore possibile e che si interverrà solo sulle dirigenze e non sulle strutture fisiche, lo scenario ha creato allarme. Soprattutto in una provincia come la nostra, già aggravata con molti plessi spopolati a causa del crollo demografico, sindacati, preside e docenti sono in ansia per l'ipotesi di un taglionetto delle autonomie scolastiche che porterebbe alla perdita dei posti di presidenza e di segreteria e sarebbero dettati, dicono, da una visione economicistica della scuola. Nel Salernitano ad oggi sono 33 le scuole senza un preside stabile e affidate ad un reggente. Con l'entrata in vigore di nuovi parametri rischiano la perdita dell'autonomia altre 40 scuole. Il Salernitano soffre il crollo demografico in modo grave tra infanzia e primaria. Ci sono 65 scuole con meno di 30 alunni, soprattutto tra i plessi per l'infanzia. Il plesso di Arena Bianca, ad esempio, del comprensivo di Montesano sulla Marcellana, conta 8 bambini. L'elenco delle scuole con meno di 30 alunni non finisce qui. Il plesso di Casalbuono conta appena 20 alunni. La situazione non è diversa alle scuole elementari. La scuola di Pertosa ha 20 alunni. Questo solo per fare alcuni esempi, restando nel Vallo di Diano, ma l'intera provincia, soprattutto nelle aree interne, soffre tale situazione. Il ministro Valditara però spiega che la riduzione è graduale e avrà un orizzonte temporale di 10 anni in totale, che si interviene solo sulle strutture giuridiche, cioè sulle dirigenze scolastiche, non sulle strutture fisiche. Questo significa che i plessi attuali in Italia sono 40.466 e rimarranno 40.466. Saranno quindi le scuole, intese come istituti giuridici, a subire una riduzione di 700 unità in due anni. Secondo il ministro, questo dimensionamento è necessario per garantire alle scuole i fondi del PNRR. Entro il 31 dicembre, infatti, l'Italia deve adeguare la rete scolastica all'andamento anagrafico della popolazione studentesca.